Allora Marta, direi molto bene, no? Sei contenta? Sì, sì, io già sta bene. Mi dici i risultati? Ho fatto un 13, un 4 e un 9. Beh, molto bene allora, è una giornata difficile. Mi sono abbastanza soddisfatta. Sì? Te l'aspettavi così complicato o no? Sì, più complicato. Più complicato di così o no? Sì, un po' più complicato in partenza, però sono riuscita a cavarmi. Che condizioni ci sono state? Quanta intensità di vento? Beh, nella prima 12-13 nodi, era un po' più plante, e negli altri due è leggero, 6 nodi. E il quarto l'hai fatto con il leggero? Sì. Bene, a questo punto il campionato, visto che ti sei tolta l'emozione dell'inizio, può andare bene, no? Sì, sì, speriamo. Speriamo di sì. Ok, ci vediamo domani dopo la prossima, bravissima, grazie.